Ogni tanto, sapendo il mio passato di Alpino, la gente mi chiede cosa penso del servizio militare. Sapete che la NAIA in Italia è stata sospesa dal 2006. In questo momento la Regione Veneto sta discutendo sulla possibilità di un regolamento regionale per reintrodurla, per riprenderla, ma anche a livello nazionale il Ministro dell'Interno e altre rappresentanze politiche si sono espressi a favore su questo argomento. Se volete la mia modestissima opinione, io credo che sarebbe davvero opportuno ripristinare non tanto e non solo l'obbligo militare del servizio militare, ma sarebbe importante tornare a chiedere ai giovani sei mesi della loro vita, sei mesi di tempo della loro vita da dedicare al bene comune. E lo farei in maniera distinta, sostituendo quelli che oggi noi chiamiamo gli stage scolastici, qualcuno li chiama stage, ma in realtà la parola è francese, si dice stage. E mi piacerebbe che nel prossimo futuro lo Stato chiedesse ai giovani di dedicare sei mesi del bene comune in settori che sono congrui alla loro formazione culturale. Stanno facendo l'università in determinati settori, impieghiamoli in uno stage di sei mesi perché questo serva loro come apprendistato, come formazione. C'è una parte di questi giovani che penserebbe poi magari anche di arruolarsi per fare il militare come professione, perché è un'attività che serve, ce ne sono molti. Questi potrebbero optare per un servizio militare di sei mesi. Io credo che sarebbe una cosa bella, sapete perché? Non solo perché diventerebbe un momento formativo, diventerebbe anche un momento di convivenza, ma soprattutto sarebbe importante per due motivazioni. La prima servirebbe a creare una coscienza disciplinata, perché quando non si deve più essere disciplinati dai genitori, ma da qualcuno di esterno, l'obbligo della responsabilità diventa automatico. In secondo luogo, credo che dovremmo tornare a educare questi giovani e far capire loro che il bene comune viene prima di ogni altra cosa.